L'Università ed il CUS Camerino ospiteranno dal 17 al 25 giugno i campionati universitari nazionali, giunti alla 76esima edizione. I CNU rappresentano il più importante evento sportivo universitario a livello nazionale e quella del 2023 è la prima edizione del CUSI, Centro Universitario Sportivo Italiano, come Federazione Sportiva del CONI. Arriveranno a Camerino oltre 3.000 studentesse e studenti universitari, provenienti da tutte le università italiane, che si cimenteranno in diverse discipline sportive ospitate non solo nei meravigliosi impianti sportivi del CUS Camerino, ma anche in alcune città limitrofe. La manifestazione è stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Regione Marche, alla presenza tra gli altri del Presidente Francesco Acquaroli e del Rettore Claudio Pettinari. Le aspettative sono veramente tante, ci aspettiamo un numero significativo di atleti, di dirigenti accompagnatori, un numero importante anche di tifoserie che magari accompagneranno le tante università che saranno presenti a questo evento. L'evento più importante per gli atleti delle università italiane che si svolge nel 2023. Erano anni che non organizzavamo questi campionati, oggi abbiamo delle strutture che si sono rivelate tra le più belle d'Italia, le più funzionali e che ci consentono di ospitare, pensiamo a un numero superiore ai 3.300. Saranno con noi su tante specialità, su tante attività e saranno con noi perché crediamo fortemente che lo sport sia fondamentale per la crescita delle studentesse e degli studenti italiani. L'Università di Camerino è già un campus veramente americano, tant'è vero che poi ospiteremo molti di questi atleti durante questi 9-10 giorni, saranno ospitati nelle nostre strutture ricettive, quindi nelle nostre residenze. avranno la possibilità di vedere quelle che sono le strutture scientifiche che noi mettiamo a disposizione degli studenti e potranno comprendere come questo trinomio, lo dico, impianti sportivi, strutture scientifiche e residenze costituisca oggi una grande risorsa per quell'area.